Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, seconda parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato ad Eugenio Montale. Ci eravamo lasciati concludendo la nostra analisi sulla sua prima raccolta, Ossi di seppia, e dicendo qualche parola riassuntiva su ognuna delle sue sezioni principali. Bene, procediamo. Nel 1927, all'età di 31 anni, Montale ottiene il posto di redattore presso l'editore Bemporad di Firenze e si trasferisce così nella città toscana. Ecco, si può dire che a Firenze in quegli anni fosse nata la poesia italiana moderna, sia grazie alle aperture della cultura fiorentina nei confronti di tutto ciò che accadeva in Europa, sia grazie a riviste letterarie quali La Voce o La Cerba. In questi anni Montale collabora con varie riviste letterarie, tra le quali Solaria, e frequenta i ritrovi letterari della città, come ad esempio il caffè Le Giubbe Rosse, dove conosce Carlo Emilio Gadda ed Elio Vittorini. Nel 1933 conosce la poetessa e italianista americana Irma Brandis, con cui ha una storia d'amore che durerà cinque anni. Montale le dedica la sua seconda raccolta, dal titolo Le Occasioni, che esce nel 39, poco dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, seguita da quella definitiva del 1940. Canterà inoltre la Brandis con il nome di Clizia in molte poesie della stessa raccolta. La donna, di origini ebraiche, sarà costretta a rimpatriare dopo la promulgazione delle leggi razziali. Le Occasioni è una raccolta di 50 poesie, a cui se ne aggiungono altre quattro nella seconda edizione del 1940. La maggior parte di esse erano state man mano pubblicate in varie riviste, e già nel 1932 cinque testi avevano costituito un piccolo volumetto dal titolo La Casa dei Doganieri e altri versi. Il titolo della raccolta allude all'accadere di eventi che potrebbero mutare il corso uniforme e monotono dell'esistenza. Ma ciò non avviene, quindi il poeta decide di affidare ad altri, in particolare a delle enigmatiche figure femminili, la sua esile speranza di salvezza. La figura della donna, soprattutto quella di Clizia, è tradotta da Montale nell'idea lirica della donna Angelo, messaggera divina le cui apparizioni si accompagnano a bagliori e a manifestazioni di luminoso splendore, e che sembrano poter salvare non solo l'autore, ma l'intera società umana. In assenza di Clizia, il poeta è invece frustrato e sconfitto, un impotente essere in valia della storia. Se in ossidi seppia la poesia montaliana era per lo più risolta nel rapporto tra il poeta e la natura, ad esso abbraccia orizzonti più ampi. Il poeta indaga infatti le ragioni della vita, l'idea della morte e l'impossibilità di dare una spiegazione valida all'esistenza e allo scorrere inesorabile del tempo. Le liriche delle occasioni sono certamente influenzate dagli accadimenti storici di quel periodo, soprattutto la disgregazione della società causata dal fascismo e dalla guerra. Il mondo che circonda il poeta gli appare desolato, oscuro e privo di speranza, e la sua mente è circondata da fantasmi paurosi, da immagini allucinate e da presagi di morte. Diventa di conseguenza più profondo il solco che la memoria scava tra i momenti di un passato felice ed un presente sempre più vuoto e smarrito. Questo passaggio dal mondo delle cose a quello della memoria fa nascere nel poeta un'ansia metafisica che di qui in avanti sarà sempre presente nella sua produzione poetica. Lo stile si innalza e si purifica e Montale torna ad una metrica tradizionale, soprattutto con l'uso dell'endecasillabo. Inoltre, si nota in queste liriche l'influenza sul poeta della cultura anglo-americana e di quella francese, in particolare Elliot, Blake, Hopkins, Valéry e Baudelaire. Come i Nossi di Seppia, anche in quest'opera abbiamo un'introduzione intitolata Il Balcone e una divisione in sezioni, quattro in questo caso, ciascuna numerata con una cifra romana. La prima sezione è una sorta di diario di viaggio, in cui compaiono, all'interno di paesaggi, i personaggi femminili già citati. La seconda sezione è intitolata Mottetti e contiene venti brevi componimenti dedicati per lo più a Clizia, alla sua allontananza e all'attesa del suo ritorno, sottolineando la negatività del presente. La terza sezione è costituita da un poemetto unitario intitolato Tempi di bello sguardo, nel quale viene trattata la crisi della civiltà letteraria travolta dalla violenza della storia. La quarta sezione, in analogia con ossia di seppia, contiene le poesie più complesse ed elaborate. In questa sezione domina l'immagine dell'interno, ad esempio la casa o lo studio, in opposizione all'immagine di un esterno minaccioso rappresentato dalla città, dal fascismo e dalla guerra. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la raccolta Le Occasioni. Procediamo. Montale legge moltissimo in questi anni, soprattutto Dante, Svevo e i classici americani. Oltre a pubblicare Le Occasioni, scrive in questo periodo le prime liriche che poi confluiranno nella raccolta La bufera e altro, pubblicata nel 1956. Subito dopo la guerra si iscrive al partito d'azione, ma ne esce pochissimo tempo dopo. In seguito dirà, aperte virgolette, quella del partito d'azione fu una vera moda. Quando Milano fu liberata ci furono 300.000 domande di tessera, ma gli iscritti effettivi furono soltanto 3.000, chiuse le virgolette. Ecco, piccolo chiarimento su cos'era il partito d'azione. Era ovviamente un partito politico che nasce nel giugno del 1942 e si scioglie nel 1947. In seguito alla caduta del fascismo, il partito d'azione si presenta come una forza politica che lotta per un cambiamento radicale della società italiana, che vorrebbe laica e pluralista, contrapponendosi sia ai democristiani sia ai comunisti, ancora saldamente legati all'Unione Sovietica. Nel 1948 si trasferisce a Milano, dove resterà fino alla morte. Diventa redattore del Corriere della Sera, per cui scrive sia reportage culturali da vari paesi del mondo, sia articoli per la terza pagina sulla letteratura anglo-americana, avvalendosi anche della collaborazione dell'amico americano, giornalista, scrittore e regista, Henry Furst. Bene, direi che è tutto per questa seconda parte, spero che abbiate trovato questo video interessante, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre, grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima!